L'incidente questa mattina poco prima delle 11 in via generale dalla chiesa nei pressi della concessionaria Opel a Ciriè. Un'arena Twingo uscita di strada battendo un cartello della segnaletica stradale e finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nole per mettere in sicurezza l'auto visto che aveva l'impianto a gas e i carabinieri. L'uscita di strada è stata probabilmente causata dal manto stradale ghiacciato.